Gabriele Civilli, un grande ritorno in questa decima edizione di Tale Quali Show. Sì, sono felicissimo, ringrazio Carlo Conti, il mio fratellone, per avermi dato la possibilità di tornare in famiglia. Erano due anni che mancavo, sono dimagrito, infatti ho dovuto stringere la cinghia perché per due anni non ho percepito, a parte gli scherzi, ho la possibilità di riprovare le sensazioni che mi hanno reso felice per otto edizioni. Quindi, insomma, grazie. Grazie Rai, grazie, e comunque sempre viva Carlo Conti! Ecco, qui c'è un grande lavoro, come vediamo, un grande lavoro da parte di tutte le maestranze della Rai, e questo è bene sottolineato, e lo è ancora di più, soprattutto in questi giorni difficili. Sì, io ho trovato una professionalità, una precisione, una affidabilità, insomma, speriamo che vada tutto bene, perché la Rai, come sta lavorando, meriterebbe appunto di portare a termine questo programma che è il fiore all'occhiello della Rai. Facciamo un saluto agli amici della voce dello spettacolo per chiudere e invitiamovi a non perdere tale quale scelta. voce dello spettacolo, amici, qui è Gabriele Cirilli, che vi... Chi è Cirilli? Ma quella è un'altra cosa, sono qui per dirvi venerdì sera, mi raccomando, tale quale scelta. Grazie Gabriele, grazie a tutti.